Niente crisi per lo spec alto adige IGP. I dati di produzione 2010 indicano la controtendenza di uno dei prodotti simbolo della nostra provincia che ha raggiunto il livello di produzione del 2008 il più alto in assoluto con un più 9,6 per cento rispetto al 2009 corrispondente a 2 milioni 392 mila 842 baffe. Parallelamente all'incremento della produzione di spec marchiato è cresciuta anche quella complessiva dei prodotti riconosciuti dal consorzio preseduto da Franz Semster con una crescita del 10 per cento. Il totale 2010 ammonta a 6 milioni 119 mila 763 baffe. Il rapporto tra produzione di spec alto adige marchiato IGP e la produzione di spec totale è del 39 per cento valore in linea con quelli degli anni precedenti. Particolarmente significativa la performance dell'affettato che si conferma il prodotto che registra la maggiore crescita. Questo formato, afferma il consorzio, nel 2010 ha segnato una crescita del 17,5 per cento passando da 18,2 a 21,3 milioni di confezioni rispetto all'anno precedente. La confezione da 100 grammi è la più richiesta in quanto si adatta perfettamente alle moderne esigenze del consumatore.